Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non andare in televisione. Frede! Grazie a tutti. E tu sei un pirla! Questo sei! Deminello Alpi è un intellettuale di centro-destra intelligentissimo! Non stai a burlare! Pirla! Intelligentissimo! Non è un ministro dell'istruzione! Lo conosci o no? Studia! Leggi! Leggi! Studia! Torna a casa! Non andare a casa! Non andare in televisione! Torna a televisione! Non lo conosco! Sei un ignorante o una casa! Ignorante! Capra! Non lo conosco! Sei un ignorante o una capra! Non dire infeggiante! Sai diete parla! Sai diete parla! Non lo conosco! Sai diete parla! Non lo conosco! Leggi! Studia! Non andare in televisione! Grazie di essere stati con noi!